Dopo aver blindato la porta con Enrico Guarna, la regina mette a segno un nuovo colpo di mercato, assicurandosi le prestazioni sportive del centrocampista greco, classe 94, Dimitrios Sunas, che si lega al club del presidente Luca Gallo con un contratto biennale, con scadenza al 30 giugno 2021. Approdato in Italia tre anni fa, dopo esperienze nella massima serie greca, Sunas ha militato nelle ultime tre stagioni nel Monopoli, dove ha giocato complessivamente 93 partite, realizzando 4 gol e sfornando 17 assist. Al suo arrivo, nella casa Maranto, accompagnato dall'ex bandiera della regina Bruno Cirillo, oggi procuratore, Sunas ha salutato così i suoi nuovi tifosi. Un saluto a tutti i tifosi della regina, sono felicissimo di far parte di questa famiglia, non vedo l'ora di giocare a granilo e di abbracciarvi tutti.